Ciao, siamo due ragazzi che venivano a Torino e volevamo dire che ci piace tanto questa iniziativa che hanno fatto ai Morazzi, tra l'altro la sabbia, il mare, preferiamo che il po' comunque sia più pulito. Però ci siamo chiedendo una cosa, ma per fare il bagno, no? Non metterci le cuffie? Poi vorremmo una risposta, no? Ci ho superato. Non credo che abbiamo una risposta, ma grazie Torino, ti rendi felice di essere torinese. Sì. Peace and love.